Ok, vediamo la prossima missione, ora che abbiamo mangiato il professore, il dottor, progetto Long Shadow. Certo, facile facile proprio, una missione proprio, babà. James, ho delle informazioni sugli esperimenti sui civili, stanno facendo delle iniezioni di qualcosa, ecco, i pregiornati l'hanno prelevata da un mostro. Ci penso io, vado subito a dare un'occhiata. Esatto, sicuramente è il nostro prossimo attacco. Sicuramente è il nostro prossimo attacco. Onesto, a nome, mi fa pensare Long Shadow, mi fa pensare alla frusta. D'altro canto, le armi più, diciamo, iconiche di Prototype sono gli artigli e la lama. Eccomi qua. Facciamo finta di nulla. Nessuno lo vede, ora qualcuno sì. Ecco, fatto. E via, due soldati. Voglio prendermi, esatto, quella stringa di DNA. Ma ovviamente dobbiamo fare attenzione. Nessuno lo vede, nessuno lo vede, vai vai. Ecco fatto. Un t-bonus. Posso entrare? Long Shadow, sì, mi fa pensare alla frusta. Che nel primo gioco era uno dei attacchi opzionali. Era uno dei meno importanti. Sai che forse no è proprio la lama, invece? Siete coglioni. Noi. Che cosa è cambiato? Noi. Ehi, pezzo di merda. Ah, ma sono i tentac... Ora me lo... Cioè, ora mi... Mi ricordo di loro. Oh, ma aspetta. Fatto. Il bello è che a noi non ci stanno proprio cagando. Sai che forse ho ragione della frusta? Ecco fatto. Che cazzo è questa roba? Eh, che cazzo è? Un'idra. Nooo. Ok. Questa non era contata. Mi ha destabilizzato il fatto che mi avesse attirato a lui e poi mi ha schiacciato. Questo giro me lo sono meritato, la morte. Ho fatto troppo lo sgargiulo. Bastardo, ma ancora? Quelle mucchia, che falle. Ma che falle? Ma sempre lo stesso attacco fai? Recapiamoci un attimo. Scusami. No, ho bisogno di mangiare. A questo punto sai che faccio? Faccio prima. A lanciargli ieri gli oggetti. Eh no! Ma dai, ma l'avevo evitato. Sto attacco è stato del tutto ingiustificato. Vedi? Lo fa... Se ti allontani, lui ti avvicina. Lo fa apposta. Scusami. Ma ti devo mangiare. Come ci si sente? Brutta testa di cazzo. Brutta testa di cazzo. Allora. Scusa. Ma ho bisogno di magnà. Tanto ci crepi, eh. Tanto fidati che ci muori tra poco. Ho bisogno del lanciarazzi? Eh no. E stavolta ti fotti. Stavolta... Ti fotti altamente. Ma se non gli hai fatto niente. E' andato lì con l'artigliezza. Cic! Fa tutto un cazzo. Dai, assortiti, bastardo. E' i pugni? Ah no. Sì. I pugni, tra virgolette. No, avevo ragione. E' una sorta di crusta. Com'è possibile? Abbiamo uno stile. Sta distruggendo tutto. Cosa cazzo state aspettando? Sveglia! Sta mandando in fuori. E' un attacco particolare. Uccidetelo. Uccidetelo subito. E' un attacco particolare questo. Ecco fatto. Noi siamo nascosti, quindi non dovrebbero neanche sgamarci. In teoria. Sì, come no. Sì, sì, sì. Fammelo fare, però. E' così strano come attacco questo. E noi ce ne usciamo, travestiti, ovviamente. Successo niente, visto niente. Aggiornatemi. Il nemico non identificato è sparito senza lasciare traccia, signore. Porca puttana. Battugliate il perimetro fino all'arrivo della guerra. Porca miseria. I dominatori della guerra biologica. I dominatori della guerra biologica, certo. Come no? Non mi piace tantissimo come attacco questo. Sei un soldato? Dovresti sapere. Dovresti sapere cosa vuol dire avanzare in una missione del genere. Il laboratorio. Oppure c'è anche una G con... C'è una scatola nera. Eccola qua. Grazie. 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 Grazie.